Anticipazione il segreto dal 10 al 15 luglio, la morte di Conrado Domenica 10 luglio, Aurora cede al corteggiamento di Conrado, quindi i due si rimettono insieme. Alicia però farà di tutto per ostacolare questa storia. Severo inizia a pensare che il suo incidente è stato causato per mano della perfida donna Francisca. Nicolas cerca di scoprire la motivazione per la quale Gennaro si è trasferito a Puenteviego. Lunedì 11 luglio, Alicia cerca di togliere di mezzo Aurora, ma la donna viene salvata all'ultimo momento da Conrado. L'uomo però per salvare la sua amata perderà la vita. Martedì 12 luglio, si svolgono i funerali di Conrado e da Aurora è visibilmente distrutta per ciò che è accaduto. Lucas cerca in qualche maniera di starle vicino. Mercoledì 13 luglio, Bosco ed Aurora scoprono inevitabilmente che Beltran ha i tre nei ereditati da Pepa e ne restano scioccati. Giovedì 14 luglio, Severo sconvolto per ciò che è accaduto a Conrado, offre il suo sostegno morale e fisico ad Aurora. Raimundo e Francisca progettano il loro futuro insieme nonostante Emilia non gli dia il suo benestare. Venerdì 15 luglio, Bosco e Francisca hanno una lunga discussione che sfocia in una profonda rottura tra i due. Il ragazzo quindi va via da casa e si reca a trovare rifugio da Severo. Iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti e le prossime anticipazioni del Segreto e tutte le altre SOP. Iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti e le prossime nonostante Emilia nonostante. Iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti e le prossime nonostante.